Rese note le motivazioni della bocciatura da parte della Corte Costituzionale dei due quesiti referendari che puntavano ad abbrugare l'attuale legge elettorale. In caso di accoglimento, scrivono i giudici, il referendum avrebbero causato l'eliminazione nella sua interezza di una legge necessaria costituzionalmente. Inoltre il secondo quesito spiega la consulta era anche contraddittorio e non chiaro.